E' stato l'ingresso dell'ex cementificio di Contrado Livola a Benevento, confiscato alla criminalità organizzata il Teatro del Brindisi per il nuovo anno dell'associazione Libera contro le mafie con altre associazioni ed istituzioni. Un cancello che purtroppo resta ancora chiuso nonostante il finanziamento di un progetto e l'arrivo di fondi anche per il capannone all'interno dell'ex cementificio. Di qui l'appello di Libera. C'è quella palazzina che ha già avuto un finanziamento, i cui lavori dovevano essere già ultimati da tempo. Noi più volte abbiamo sollecitato e quando diciamo noi, diciamo noi per il bene della comunità, non per un utilizzo da parte di Libera. Assolutamente noi non abbiamo nessun interesse. Da poco è stato pubblicato l'esito positivo del finanziamento di 2 milioni e mezzo. La finalità dovrebbe essere quella di un incubatore azientale, diventerà un cementificio di idee. Un bene confiscato deve quindi tornare quanto prima nella disponibilità della collettività, il monito di Martino. Allora brindare al bene significa innanzitutto brindare al bene del nostro territorio, al bene delle nostre famiglie, al bene dei nostri giovani e poi brindare anche al bene di questo bene. E cioè vale a dire affinché possa essere al più presto riutilizzato dalla società e dalle istituzioni.